Se stai cercando un'applicazione di risultati in tempo reale, facile, intuitiva, divertente ma soprattutto gratuita scarica KraussCourse dal link in descrizione, oltre mille partite ogni settimana, serie A, serie B, tutte le tabelle e le statistiche puoi dialogare con altri tifosi durante le partite, disponibile per iOS e Android gratis scaricala dal link in descrizione, buona visione Buona prima ragazzi, qui è Giustizio e siamo tornati con questo nuovissimo video e oggi finalmente vi porto un video sulla demo di FIFA 18 non ve l'ho portato ieri perché ho voluto provarla abbastanza a fondo, insomma, per darvi un'opinione più concreta possibile lasciate un bel mi piace, mi raccomando e ovviamente passate in descrizione, c'è KraussCourse per risultare il calcio e seguitemi pure su Instagram, sempre in descrizione, mi raccomando allora, ho letto e ho sentito tantissime cose riguardo a questa demo di FIFA 18 tipo che sembra PES, che è troppo lento quindi vi andrò a dare una mia opinione e mettoci facciamo una partitina allora, ci andiamo a prendere, vediamo un po' Real Madrid, c'è anche la maglietta di Ronaldo oppure il Bayern Monaco eh, Bayern Monaco, eh, Bayern Monaco ci piace Bayern Monaco contro... Manchester United vai, Bayern Monaco, Manchester United forse ho fatto una cavolata tanto che Lukaku, da quanto ho visto, è tipo Dio sceso in terra però, ok, ci siamo allora, andiamo a impostare, già c'è, ok, leggenda eh, e ho sentito, vi ripeto, tantissime cose riguardo a questa demo tipo che fa cagare, tipo che sembra PES e roba del genere io non vi posso dire se sembra PES perché non gioco a PES, probabilmente da PES 2009, 2008, roba del genere quindi non vi so assolutamente dire se sembra PES o meno fatto sta che comunque a me non dispiace finora perché da quello che si è visto vabbè, beh, andiamo avanti mi sono otto le palle potevamo prendere lo stadio la bombolera ma mi sono dimenticato quindi siamo al Bernabeu va bene uguale, non ci prega niente da quello che ho visto, vi ripeto è un gioco più ragionato alcuni hanno detto è troppo lento, ragazzi ma le demo sono sempre state così e saranno sempre così cioè considerate che non è la versione definitiva del gioco quindi, e soprattutto non è Ultimate Team perché voi, come sapete, se non lo sapete lo dico io ve lo dico io Ultimate Team è sempre molto più veloce rispetto a Caccio d'inizio, per esempio o Stagioni o quel che sia quindi è normale che vi troviate un po' un po' a disagio e la bombona di Vital subito nel senso che è un gioco più lento e più ragionato forse è un po' troppo lento in questo modo sì, sicuramente sì però, ragazzi, aspettiamo prima di vedere il gioco completo è Alaba che ci fa questo colpo di testa incredibile per giudicare perché assolutamente non si può giudicare un gioco dalla demo assolutamente no vediamo se Ribery ce la mette dentro e c'è il gol incredibile non so chi sia penso che sia Ari e Robben mamma di testa ce l'ha messa lì al senso minuto e facciamo anche un bel cell phone per celebrare vi ripeto, i cross come avete visto sono particolari cioè sono molto, molto migliorati ma lo sapevamo già forse è un po' troppo perché qui, come avete visto, la palla vabbè che De Gea qui ci ha mostrato i portieri, ragazzi perché le demo ogni anno i portieri fanno sempre cagare quindi non vi spaventate i portieri ci metteranno sicuramente mano poi considerate che comunque almeno nel primo mese di gioco se c'è qualcosa di effettivamente clamoroso da risolvere fanno aggiornamenti, fanno cose quindi state tranquilli state scialli ma vi ripeto, è una demo quindi non gli date troppo peso aspettate il gioco completo che per me sarà il 21 vi ripeto quindi ormai manca una settimana precisa e ci siamo raga, io vedevo la gente super mega hypata come ogni anno per la demo ma effettivamente la demo è giocare offline e fare la prova del viaggio e la prova del viaggio l'abbiamo fatta subito appena scaricata in live quindi se non avreste andatela a vedere e qui è fallo su Lewandowski però fratello va bene non mi... raga, non riesco a prendere punizioni interessanti contro il computer è una cosa assurda comunque, cosa stavo dicendo? che alla fine giocare offline quindi a meno che non giocate con un vostro amico che c'è anche tra l'altro il metodo per giocare su PS4 online cioè che culo che hanno quelli che hanno PS4 mai una gioia per noi che abbiamo Xbox però se non avete qualcuno con cui giocare vi non pede le valle dopo due giorni dopo un giorno perché è una demo è una demo quindi vi ripeto che secondo me quest'anno la melina è alla base proprio del gioco almeno da questa demo sembra così adesso faccio col tiro a giro no, non è vero e il posto e sopala mi sembra abbastanza importante ragazzi è vero che adesso stiamo giocando contro il computer anche se non è il computer dell'anno scorso questa è un'altra cosa da dire cioè non è un computer che sembra un robot che non sbaglia mai ma è un computer che fa anche degli errori piuttosto banali se avete visto sulla mia pagina Facebook se mi seguite lì avete visto un gol che ho fatto per esempio con Morata su un errore di disimpegno di David Luiz che non ha dato via la palla io l'ho soffiato sempre a leggenda con Morata e ho segnato questo fa anche capire che magari quest'anno potrebbe essere un po' più divertente giocare contro il computer dato che è sempre stato troppo, troppo monotono il computer fa melina, fa melina, fa melina anche se sei una squadra di cacca contro Bayer Monaco per esempio che stiamo usando noi adesso ti fanno sempre melina cosa che adesso magari non state vedendo e adesso Robben fa doppietta non è vero più che altro si vede molto la differenza tra giocatori tecnici che hanno per esempio agilità tipo Robben che ha fatto sta cosa adesso si è bevuto due difensori si vede molto la differenza tra giocatori molto molto tecnici e giocatori che invece sono un po' scarpari ecco per dire e per questo motivo mi sarebbe piaciuto anche provare Messi che purtroppo non hanno messo penso per il fatto che il Barcellona l'accordo lì con la Konami per PES e quindi non l'hanno messo intanto qui c'è Fallo in attacco perché quindi non l'hanno messo purtroppo perché secondo me Messi quest'anno se il gameplay si riconferma più o meno così Messi sarà veramente veramente molto molto forte ragazzi ve lo dico adesso voi segnatevi le mie parole e sicuramente poi saranno sbagliate però adesso Lewandowski prova il bombolo e mamma mia qua ragazzi cioè ha tirato col difensore davanti a incrociare una bomba incredibile cioè non so come sia possibile che l'ha parata qui c'è la difensore davanti non so come vabbè era abbastanza centrale però allora io direi di provare a metterla dentro non ho mai segnato sul calcio d'angolo diretto finora quindi proviamo a metterla dentro infatti ancora non segniamo comunque in generale non mi dispiace fine primo tempo ora vediamo se sono riuscito a mantenere quello che vi ho detto cioè il possesso palla perché soprattutto ovviamente contro il computer è fondamentale 62% di possesso palla ecco questo è fondamentale ragazzi è veramente fondamentale il possesso palla va bene che adesso vi ripeto siamo contro il computer ma in generale secondo me su sto FIFA è molto importante molti si sono lamentati anche della difesa ragazzi la difesa allora finora giocando a leggenda non ho trovato tutte queste grandi difficoltà è cambiato il sistema di difesa eh ma diciamo che io non mi ero mai completamente adattato a quella dell'anno scorso cioè il lasciar fare tutto al computer avevo sempre gli interventi mi veniva spontaneo farli le uscite magari prendevo anche i gol però era proprio il mio modo di giocare quindi diciamo che magari per quest'anno è una cosa positiva vediamo il cross adesso su Lukaku il mio difensore qui si è scostato come ho visto era umbes penso si è levato ecco queste sono le cose che magari non vanno molto bene perché ecco qui sto perdendo palla come un idiota perdendo palla come un idiota ma meno male che la recupero si è scostato il difensore in quel modo e sinceramente è già qualche volta che mi capita non solo col Bayern Monaco e non ho capito sinceramente sta cosa però però magari magari ho sbagliato io magari i tempi di uscita vediamo adesso aria e Robben se riesce a far qualcosa è qui è qui ragazzi in teoria il cross suo non doveva passare quindi questa è un'altra cosa che i cross sono un pochino baggadini qui entrerei anche da dietro ma non c'era bisogno perché abbiamo recuperato su fratteggiamo corto per lui attenzione ancora palla per Robben vai Robben subito c'è tale imbucata c'è ancora Lewandowski che la dà per Ames Ames Rodriguez prova quella era un load of shot ragazzi avete visto quanto è stato efficace veramente tantissimo figa di clamoroso ecco qui intanto Pogba guarda come ci fa segnare cioè si cross regalo sinceramente a parte De Gea che vabbè lasciamo stare si non è De Gea scusate Neuer però i cross sinceramente lì cioè quel cross là il mio difensore si è completamente elevato qui Neuer che smanascia però il mio difensore lì si è elevato completamente sta cosa sinceramente non è che mi faccia impassi è tipo qua mo subiamo gol noi cioè una cosa incredibile ragazzi c'è lo script anche contro il computer mo' inutile farei sostituzioni perché penso che andremo direttamente ai rigori penso che andremo direttamente ai rigori perché non lo so non lo so ragazzi non lo so non lo so allora vi faccio vedere i rigori facciamo che andiamo ai rigori vi faccio vedere ecco che adesso perderò i rigori già lo so che adesso vi ho detto che li sottiremo perdo i rigori sicuro sicuro che perdo i rigori sicuro comunque 60% di possesso palla l'abbiamo mantenuto andiamo a tirarsi i rigori mo' perdo allora motiviamo la potenzione di partenza spostando i rigori vabbè vi faccio vedere che cambia solamente che se io adesso mi muovo cioè se io muovo L non L ecco si muove solo la freccetta cioè non inizia a correre lui allora vediamo un po' dove io possiamo tirare io direi tirare io lì di precisione proprio di precisione bello lì spiazzato spiazzato De Gea vediamo riuscire in appara a qualcuno Romelu Luca Q vediamo un po' contro Manuel Neuer ma è Manuel Neuer metti di pressione secondo me lo tira a sinistra ok c'è lo script dio allora centrale il computer me la vara ho l'impressione quindi teniamo un po' di potenza di là raso terra di là ah non è ok era il pallon ok sorry man era il pallonetto comunque l'abbiamo spiazzato uguale allora secondo me lo tira sempre da quella parte e invece no ma spiazzato bello bello Pogba bello Pogba Pogba grande Pogba allora impostiamoci un po' alla rincorsa allora io direi di di fare una cosa del genere bella lì spiazzato anche qui ragazzi spiazzato anche qui ci siamo ci siamo ammazzia la va parato raga di là no prendila no no raga no 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 ma mi ha fatto il pallone mi ha fatto il pallone si è serio allora mettiamoci i centrali così magari spiazziamo De Gea attenzione 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 ok che culo che culo che culo l'avevo spiazzato poi ho deciso di cambiare direzione allora dai godo Neuer Neuer godo allora non so se segno si se segno ho vinto attenzione 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 Robben Arjen e vabbè rega i rigori cioè i rigori l'abbiamo vinti i rigori l'abbiamo vinti vai fammi un bel cell phone per festeggiare e rega quindi ci siamo avete visto il possesso vale importante vabbè ha preso gollo al novantesimo già iniziamo il bene inizio a metà dell'opera però avete visto che i rigori abbastanza bene cioè insomma si riescono a tirare abbastanza bene comunque dai io direi di andare a vedere un attimo le statistiche di questa partita per farvi vedere quindi vi ho detto un po' che cosa ne penso in generale ho detto un po' le cose mi venivano in mente non mi ero scritto nulla quindi spero che abbiate capito qualcosa se avete comunque domande o qualsivoglia cosa ditemelo nei commenti allora il gol di Robben ve lo faccio vedere perché è un gol di testa tra l'altro cioè sono tutte e due gol di testa ragazzi non mi ricordo se Lukaku ha segnato di testa andiamo a vedere vediamo un po' se Lukaku ha segnato di testa ma penso che siano due gol di testa ragazzi no non è gol di testa che cazzo dico beh però di testa ragazzi si segna quest'anno si segna mentre l'anno scorso io ho completamente rimosso quest'anno invece è più utile fare gol di testa fare cross soprattutto comunque ragazzi se avete domande qualsivoglia fatemi nei commenti noi ci vediamo alla prossima vi ringrazio sempre la visione spero che vi sia un po' chiara come la penso io aspettiamo il gioco completo per giudicarci ci vediamo al prossimo ciao